San Diego. Diego di Alcalà nacque nel 1400 da una povera famiglia di San Nicolás del Puerto nella diocesi di Siviglia. Fin da giovanissimo condusse una vita eremitica dedicandosi alla meditazione e alla preghiera. Confezionava ceste di vimini e utensili per usi domestici e in cambio chiedeva il panno per rattoppare i suoi miseri abiti. Per sfuggire alla fama di santità che si era sparsa per i villaggi entrò nell'ordine dei frati minori ad Arizaffe presso Cordova. Inviato missionario nelle isole Canarie divenne difensore delle popolazioni indigene contro i colonizzatori. È uno dei santi più popolari in Spagna e protettore degli indios. È invocato per guarire le ulcere allo stomaco.